Il complemento di termine, lezione base a cura del prof. Alfonso Zera. Il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa su cui termina l'azione espressa dal predicato, come nelle frasi Ho regalato un anello a Luigia Ho dato un biscotto al cane Il complemento di termine risponde alle domande A chi? A che cosa? Il complemento di termine è introdotto dalla preposizione A semplice o articolata, come nelle frasi Ho regalato un libro a Claudio Ho comprato una giacca al nonno Attenzione! La preposizione A manca se il complemento di termine è introdotto dai pronomi personali atoni come nella frase Le hai parlato? In questo caso le corrisponde a lei La preposizione A è facoltativa se il complemento di termine è introdotto dal pronome relativo cui come nella frase Il ragazzo cui hai regalato un libro si trasforma in Il ragazzo a cui hai regalato un libro Il complemento di termine può dipendere da Un verbo transitivo attivo come nella frase Ho chiesto a Maria delle informazioni Un verbo transitivo passivo come nella frase Un pacco è stato recapitato a Maria dal postino Un verbo intransitivo attivo come nella frase Spetterà a Maria la decisione finale Un aggettivo che indica Somiglianza o diversità Come uguale Simile Diverso Contrario Vicinanza Come vicino Limitrofo Prossimo Amicizia o ostilità Come fedele Ostile Grato Sgradito Attitudine o disposizione Come adatto Inadatto Pronto Un nome derivato dai precedenti aggettivi Come nella frase La prontezza di riflessi è servita al pugile per schivare il colpo Attenzione Complemento di termine o complemento oggetto La funzione logica dei pronomi personali atoni mi ti si ci vi le può presentare qualche difficoltà Nella frase Carmine mi ha comprato una camicia di cotone mi è complemento di termine infatti risponde alla domanda a chi Nella frase Carmine ci sta osservando ci è complemento oggetto infatti risponde alla domanda chi c'è chi chi si chi